La vota ori alla riscossa! Sono felice di portare qui il mio saluto e il mio contributo. Io sono qui perché la mia cultura e la cultura di mia moglie è la cultura del Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano aveva posizioni chiare su temi che per me sono centrati ebrelismo, israele, palestina, decolonizzazione, sionismo. Il Partito del signor Renzi appoggia il sionismo che in Israele è ormai proiettato sulla destra estrema. Il signor Renzi e i suoi non vogliono riconoscere alla Palestina e ai palestinesi di diritto all'autodeterminazione, fondato sul diritto internazionale. Io cerco un partito che difenda i palestinesi e la Palestina. Ma c'è qualcosa anche di più. Israele e i wahhabit dell'Arabia Saudita e degli Emirati sono la costante minaccia per la pace del Mediterraneo. Ora, Israele ha una bomba atomica, anche ha assi armi batteriologiche e chimiche. Bisogna toglierla. Io cerco un partito di sinistra che difenda i lavoratori. Un partito che abbia la piena accettazione per gli immigrati e che difenda la politica di pace. Non andrò certo di più avanti di questo. Voglio solo dire, spero tanto, che questo partito si ricorderà delle battaglie anti-imperialiste e per la pace del Partito Comunista Italiano. Grazie.